E' bello a tutti ragazzi, qui è Bioscrate che vi parla, oggi ragazzi siamo tornati su una nuova rubrica dal nome Curiosità del mondo Ragazzi questa è una nuova serie che vi voglio portare sul canale che se vorrete, se vi piacerà, ve la porterò settimanalmente o messilmente In cosa consiste questa serie? Consiste nel scoprire cose che non sapete in questo mondo malato di misteri Allora ragazzi mi sono segnato tutte queste 20 cose perché oggi me ne portavano 20 sul mio cellulare e non dico più nient'altro, iniziamo col video Un pezzo di carta quadrato non può essere piegato 7 volte, se non ci credete provate Pensate ragazzi che se tracciate una linea di gesso per terra, le formiche non proveranno ad altrapassarlo Pensate ragazzi che nel nostro corpo abbiamo 0,2 mg di oro Pensate ragazzi che il latte che vediamo nelle nostre pubblicità è colla E pensate ragazzi che vedendo queste immagini uno su quattro di voi è venuto voglia di latte Nell'isola Neue nel 2001 è stata coniata una nuova moneta con la faccia di Pikachu ragazzi guardate Pensate ragazzi che nel 1942 c'è stato il caso del barbiere fantasma In pratica questo barbiere entrava nelle case degli sconosciuti e tagliava la barba a tutti Cioè ma che cazzo Pensate ragazzi che nasciamo con due paure soltanto Quella del cadere nel vuoto e quella dei forti rumori Le altre esperienze verranno con l'esperienza della vita Quindi qualcuno avrà della paura del cibo Qualcuno avrà la paura dei gatti Qualcuno avrà la paura delle mille cose Pensate ragazzi che i cagli di randaggi a Mosca hanno imparato ad utilizzare il sistema di metropolitana della città Pensate ragazzi salgono e scendono nella fermata che vogliono Pensate ragazzi che ogni sigaretta fumata leva 11 minuti di vita Quindi se fumate una media di 5 sigarette al giorno per 365 giorni sono 20.075 minuti Che consistono in 334 ore Pensate chi ne fuma di più ragazzi Porca zile Se si digita 432112311 in un distributore e si preme invio Si avranno dei soldi indietro Però ragazzi funziona con questi tipi di distributori Pensate ragazzi uno scienziato che ha pesato una persona in fin di vita Ha stimato che l'anima pesa all'incirca 21 grammi Questo perché il cadavere pesato nel momento dell'eccesso pesa 21 grammi in meno Quindi dice che la nostra anima pesa 21 grammi Mamma mia santa A chi è mai capitato che mentre giochi col proprio cane il cane magari può scappare per gioco Tu prova a sdraiarti per terra e aspetta vedrai che il cane tornerà a vedere se sei vivo o morto Pensate ragazzi che una mucca può salire le scale ma non può scenderlo Ma che cazzo Non può scendere le scale Pensate ragazzi che l'American Airlines risparmiò 40.000 dollari levando un oliva dalle insalate servite in prima classe La velocità più alta registrata dall'aria spinta da uno stornuto di 165 km Porca miseria ragazzi Un proiettile Pensate ragazzi il primo sms inviato al mondo è stato nel dicembre del 1992 Pensate ragazzi Ernest Vincent Ritt scrisse un romanzo di 50.000 parole senza usare la lettera E Cosa puoi scrivere senza la lettera E Scusate 50.000 parole senza la lettera E poi è una grande idea Pensate ragazzi che queste sono sottilette al cioccolato e le hanno inventate i giapponesi E come ultimo ma non meno importante Pensate ragazzi che nel 2015 ci sono state più vittime di selfie che di attacchi di scuola Ok ragazzi se queste 20 cose incredibili del mondo vi sono piaciute lasciate un sacco di like Ditemi se vi possono piacere altri video del genere Ve l'ho detto anche prima quante volte a settimana o al mese Se lo siete ancora iscritti iscriviti ragazzi E don't worry be happy Bye bye